Musica Intervento dei vigili del fuoco di Ivrea, della polizia e degli ausiliari di Attiva, oggi, martedì 20 marzo, intorno alle 17, al casello autostradale di San Giorgio Canavese. L'allarme è scattato per una BMW station wagon alimentata a gasolio che all'uscita del casello si è incendiata. Il conducente ha prontamente accostato ed è sceso dalla vettura, restando illeso. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme che si erano sprigionate dal vano motore. Per poter aprire il cofano e mettere in sicurezza la vettura, ad incendio praticamente spento, i pompieri hanno dovuto utilizzare il gruppo da taglio. Per poter aprire il fuoco nell'intervento di Lyon. Grazie a tutti.